Talk Talk Before the Silence è lo spettacolo del music teller Federico Sarchi che ha debuttato ieri sera in Prima Nazionale nell'ambito del Festival Internazionale Castel dei Mondi in corso ad Andria. Racconta l'ascesa della band tra le più significative della scena musicale degli anni 80. Mark Hollis, chiantor di Talk Talk, è musicista in intimità, è morto. È morto Mark Hollis, frontman e leader dei Talk Talk. Con l'annuncio della sua scomparsa si apre lo spettacolo che decanta e rivaluta la carriera di Mark Hollis. Talk Talk Before the Silence è lo spettacolo del music teller Federico Sarchi in comproduzione con Talk About e Teatro Stabile Torino che ha debuttato ieri in Prima Nazionale nell'ambito del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Federico Sarchi veste i panni di un cantore che declama in un crescendo narrativo la storia biografica di una delle band che ha segnato la scena musicale degli anni 80. Quella che viene fuori è l'immagine di un genio musicale incompreso, alla ricerca del suono perfetto, è sempre pronto a sperimentare, a ricercare nuove sonorità, andando contro anche ogni logica commerciale. E sarà proprio questa logica farlo ritirare dalle scene, nel momento in cui i Talk Talk arrivano a produrre forse il loro disco più significativo. Dall'ascesa alla caduta dei Talk Talk, Federico Sarchi si perde però in un monologo fin troppo dettagliato di ben due ore, che seppur incorniciato dalle splendide musiche della band inglese, lascia poco spazio ad altro. Lo stesso Federico Sarchi sarà in scena nei prossimi giorni con un altro spettacolo su Nino Ferrer, sempre nell'ambito del Festival Castel dei Mondi di Andria. Grazie a tutti.